Ok. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome. L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Allora, per chi in questi 35 secondi si fosse domandato, ma questo è scemo? No, no. Io sono un idiota che fa a volte delle promesse. Si può un attimo pentire di quello che promette, però se ho detto una cosa, ho detto delle cose da mantenere, ragazzi, c'è un video in descrizione, il primo link nel primo commento, fate come vi pare, guardatelo. Rideteci e schiesateci un po' sopra, però io queste cose la dovevo fare. Quindi. Allora, e di che stiamo a parlare in questo video? Un video che si chiama, non so che titolo darò a questo video, perché, boh. Stiamo parlando di... Ronaldo, la Juve, ufficiale. Che giorno è oggi? 16. 2018. Pluto. È arrivato. Allora, per tutti quelli che mi hanno detto, dove sei finito, sei sparito, è morto, si è sparato, si è ammazzato, perché non porta video? Porta un video, è arrivato, tutti caricano video e te cosa fai? Sei juventino e non lo porti. Ragazzi, io avevo detto che non avrei osato nominare il suo nome in vano, solo, fino a quando, si presentasse a Torino. È arrivato a Torino. Perché ieri era sceso dall'aereo, ma nessuno mi poteva dire con certezza che quello era l'aeroporto di Torino-Caselle. Perché non c'era la mole dietro, poteva essere anche l'aeroporto di Palermo. Non c'era niente che mi potesse far capire che in quel momento era arrivato davvero a Torino. Però, quando ti svegli e vedi, gente con la maglia della Juve, lui che firma le autografie, la gente si ammazza, uno che cammina nei corridoi di un certo posto, dove canticchi Juve, Juve, e non ti chiami Murigno, ma ti chiami Ronaldo. Poi vedi che è in un tapirulana, c'ha delle affari al petto e vedi che in questo muro ci sono le J. Dici, quella non è la J di Juve Stabia, ma è la J di Juventus. Allora, basta, è arrivato, è arrivato. Adesso basta, non scherziamo, non scherziamo. Allora, io vorrei soltanto farvi una domanda, solo una. Ma voi, no, che la prendete tanto sul facile, dopo sette giorni quasi dall'ufficialità, ancora ci credete o stentate a crederci? Cioè, scrivetelo nei commenti cosa provate dopo sette giorni. Siete già abituati al fatto che potrebbe, in una partita casuale, in un Juventus-Sassuolo, con il numero sette Cristiano, no, io no, io no, io non sono pronto. Cioè, io, non lo so, devo ancora aspettare di vederlo con la maglia, ancora quello dove, potevo aspettare anche quella cosa lì, ma basta, non ce la faccio più. Vi devo questo video. Mi sono preso un attimo, si può dire, una pausa, mettiamola così. Avevo già spiegato i motivi nel video di Manzogic, che da lì in molti è stato frainteso, sono arrivati un pochino dei non mi piace, perché avevo detto delle cose che potevano far pensare male. Potevano far pensare, ma non è che Airway adesso non è contento dell'arrivo di Ronaldo? Ma sei contento del suo arrivo? Cosa ne pensi di questo colpo? Perché non ti ho tanto convinto. Ragazzi, dimenticate, non ci pensate neanche che io possa essere scontento di un arrivo di Ronaldo. Stiamo parlando di... 33 anni, 39, non mi interessa. È arrivato, è arrivato. Cioè, Real Madrid, Juventus, tre palloni do, c'è... Allora, io sto dito anche un coro, tra le altre cose, nel video di presentazione, nel video insomma che sta mettendo la Juventus a profusione, che io lì guardavo in questa settimana, dicevo, vabbè, dai. Cristiano, con tutte le lettere allungate, magari anche loro stanno scherzando. No, basta, stamattina io non scherzo più. Stamattina l'ho visto e basta, punto e capo. Poi c'era un coro carino, questa è una cosa che vorrei un attimo precisare, non per smorzare l'entusiasmo, ma, oh Cristiano, portaci la Champions, portaci, portaci, portaci la Champions, oh Cristiano, portaci la Champions. Non l'abbiamo vinta. Si vince a maggio. Quindi, già il fatto di non vedere una cerimonia di presentazione per Cristiano Ronaldo, secondo me, è giusto così. Ci siamo esaltati tantissimo. Chi non... Chi tutti si esalta, tutti in questo momento, si esalterebbe al posto nostro. Quindi è giusto essere contenti. È giusto essere contenti. Però non è il giocatore più forte del mondo da solo a fartela vincere. Sono tante cose nell'insieme. Sono i giocatori, sono i centrocampisti, sono i portieri, i difensori, i terzini, tutti quanti. Il culo, tutto. L'allenatore, quello che vi pare, e va bene. Le promesse io le manterrò. Cercherò di mantenere più cose possibili. Tra l'altro, tra queste promesse ce n'è una che sta per essere realizzata, perché siamo vicini ai 10.000 follower, su Instagram, per chi non mi avesse ancora seguito, anche se vi avevo detto un pocino che i migliori 35, andatelo a fare, ne mancano giusto 700-600. E allora a quel punto, dopo qualche giorno farò partire una specie di contest, non so, qualcosa, mi inventerò. E ne sceglierò due tra i... insomma, i miei follower. E invierò a loro delle cose che avevo promesso nel video, che vi lascio comunque nel primo link in descrizione. Dove comunque c'è la risposta al perché della intro. Che in sé per sé è un po' pazza, no? Mi avete conosciuto come uno youtuber che non è molto calmo, che intende a incazzarsi. Infatti, sono sempre quello che magari nella sua città dice... Oh, te! Fai lo youtuber, no? Io dico sì. Oh, ma non è che mi hai conosciuto con il video di Real Madrid-Juventus 1-3? Sì, sì, anche quello l'ho visto io. Grande. Che bella figura di merda. E quindi, quella non era un'idea di un ragazzo che poteva mettersi a leggere la Bibbia. Allora, di cosa vi vorrei parlare in questi 8 minuti, 9, 10 che mi vorrei prendere per parlare con voi? Che in questa settimana, sì, sono mancato, però ve l'ho detto che se mi sto prendendo una pausa in questo momento il ritmo sta rallentando. Lo so, voi vorreste vedere la carriera. Ho già ordinato la maglia che doveva arrivare. Magari mi prenderò anche quella di Ronaldo perché alla scommessa dei 100.000 iscritti su YouTube io dovrei andare a Napoli a bacio con un napoletano e con la maglia di Ronaldo. Quindi, lì ancora per arrivarci dovranno passare i mail. Sicuramente se poi mi porto da 10 video alla settimana, uno alla settimana o poco più, il ritmo per arrivare a 100.000 sicuramente sarà molto molto più lento. Non credo nei miracoli, quindi ci vorrà ancora tanta tanta fatica per arrivarci. Quindi, detto questo, tutto quello che è successo in questa settimana, le voci oltre a quella di Ronaldo che mi hanno comunque fatto pensare Ma ragazzi, ma stiamo sognando? Marcello per Alexandro. Allora, io tra tutte le voci che si sono sentite, questa è stata quella che comunque l'ho accolta con piacere Ma, se ci vado a pensare, è un arrivo incredibile Però ne posso anche fare a meno. Io vorrei anche fare lì un video a riguardo Perché adesso si sta parlando di tante voci Ieri Pogba si è messo a fare un video, una diretta su Instagram Si è preso Mato Dio, hanno parlato in italiano Mato Dio gli ha detto scherzando Torna la Juve, torna la Juve E lui La vecchia signora Lui lo fa per scherzare ragazzi Cioè lui è consapevole che se dice una cosa del genere E poi magari E tra 15 giorni va al Barcellona La gente Cioè Non è che deve pensare che Pogba ha fatto una promessa alla Juve Ci ha scherzato su E sa che se in questo momento nel mondo del web Dove da lì nasce tutto Dove senza il web Tu non potevi sapere che Ronaldo Si stava mangiando ieri un piatto Gli hanno fatto il menù Cristiano Ronaldo Tutte le notizie Che era in Grecia con l'aereo Il radar La gente che lo stava stalkerando Che non mette foto Quindi quelli sono segnale Quindi grazie a quel social network Se Pogba mi dice Quelle cose sulla Juventus Lui sa che ci scherza sopra Si crea più attenzione Comunque Il suo nome adesso è caldo E sta illudendo un po' di tifosi Ma è parte del gioco Quindi io non è che per quelle voci mi illudo È un ritorno È un ritorno che nel calcio a volte può succedere Vediamo Vedremo Certo io se devo scegliere tra Marcello e Pogba Faccio un nome Dico Pogba Tutta la vita Perché di fatto non è che abbiamo Uno scarto Sulla sinistra Abbiamo un Alexandro In questo momento Che viene da una stagione orribile Però darlo al PSG No Perché devo dare al PSG Che è una squadra Magari che in questo momento Ha un'esigenza Non gli manca il terzino sinistra Gioca con Yuri Gioca con Kurzawa Non lo so chi ha a sinistra Ma gli dobbiamo dare a Alexandro Ma no Mai Mai Non lo farei mai Anche se comunque vai a prendere Marcello E non è che gli metta a piangere In caso di un suo arrivo Anzi Sicuramente In questo momento Il terzino sinistro più forte del mondo Amico di Ronaldo Tutto quello che ti pare Quindi Sarebbe anche un po' Una scelta abbastanza giusta Portarsi dietro con sé Un giocatore Comunque con cui Ronaldo Potrebbe legare in panchina Perché in questo momento Ronaldo Lui è in panchina Una scenetta Ve la faccio Si mette qua Il primo giorno Arrivano i compagni Arriva Marchisio Tu Un selfie Basta Posso anche andare via Dalla Juve No perché ragazzi Ora Ronaldo È un giocatore Che giusto Canseo ci può parlare Nella sua lingua Gli altri lo guarderanno Stringeranno la mano I primi giorni ci sarà una Cioè i giocatori Vanno al batticuore A giocare E allenarsi con lui A vedere Ovviamente ora si prenderà La sua vacanza Tornerà in Grecia Nella sua Umile di Mora Ci mancherebbe altro Ma qui non so Non siamo qui per giudicare Quindi Ragazzi Voglio chiudere questo video Perché di fatto Abbiamo parlato di tante cose Di Marcello Di Pogba Di uno scambio Iguain Morata Perché adesso Sarri Iguain Giorginio Rugani Se lo potrebbe portare anche lui Sicuramente Non sarà l'ultimo colpo Ronaldo Certo Se si parla di Pogba Si parla di Marcello Si parla di Milink Invece si parla di Delict Si parla di Godin Si parla di Morata Morata e Pogba Sono due ritorni pazzeschi Sono due giocatori che ho sempre amato Ci credete voi Nei ritorni Nel calcio è difficilissimo È difficilissimo Però Mai dire mai Ci vediamo in un prossimo video Se mi seguite su Instagram Di certo Ve lo farò sapere meglio Questo YouTube Quando esce il video È perché È stato pubblicato Invece su Instagram Magari Ve lo comunico con qualche Ora di anticipo Ve lo faccio sapere So che aspettate la carriera Sta arrivando anche la maglietta Che avevo ordinato Lo sapete Di Harvey Dal Notscounty Quindi arriverà magari Dalla prossima settimana E niente Seguitemi su Instagram E magari Lì Riuscite a capire meglio Come gestirò i video In questi giorni Visto che il ritmo È inevitabilmente rallentato E magari tornerà Con il passare Dei giorni Quello A cui vi ho abituato Perché di fatto Siamo passati da 10 video Alla settimana A 1 Alla settimana Questa settimana passata Vedremo Ragazzi Ci vediamo a un prossimo video Non si sa quando Siate un attimo comprensivi Siate un attimo comprensivi So che vorreste vedere tanti video Io faccio il possibile Davvero Come sempre Bella Alla settimana Alla settimana Alla settimana